Il fascino di Moro d'Alba della campagna marchigiana e lo stridente contrasto con queste giornate strane in cui il rumore del conflitto per la pandemia si scontra con il silenzio irreale di questi momenti nati per fare festa. Spero che questa cosa, la bellezza superi un pochettino, travolga questa storia, la voglia di riemozionarsi, di ritornare a guardare la luna, le stelle, i profili di questi paesaggi così belli. Se fai questo è già la migliore cura del mondo, penso. Enzo Cucchi torna nel suo paese per brevi momenti per riabbracciare i nipotini. L'insofferenza generata da questa situazione quasi soffoca la bellezza del paesaggio, il gusto della cosiddetta scarpa quotidiana attorno al borgo. L'importante è poi un po' di tolleranza necessaria perché è non entrare nella retorica del linguaggio delle preoccupazioni, del terrore, dello spavento. È molto più interessante spaventarsi in senso buono davanti a un bel... Che ne so, qua in un paesino c'è un paio di Lorenzo Lotto per esempio, eccezionati. Cominciassero a spaventarsi in senso buono davanti a questi lavori, per esempio. Oppure dentro qualche chiesa meravigliosa, reganatica, per non parlare di cingoli. Si viene perché c'è un paesaggio meraviglioso, c'è una qualità di luce incredibile, c'è questo terrazzamento a mare così speciale, cosa che naturalmente in ogni angolo del mondo non c'è. Quindi siamo incredibilmente fortunati. Penso che questa sarebbe la strada, non voglio dire da percorrere, perché non posso indicare niente. Però sicuramente farei solo questa strada. Insomma, si dovrebbe praticare solo una strada di bellezza. Si conversa con Enzo Cucchi che nella vita tante cose ha fatto, l'ultima alla fontana di Due Soli al porto di Ancona e da vent'anni lavora al nuovo Duomo di Ferrara. Cos'è l'arte? L'arte può dare, non dico la soluzione, perché non è una cosa sacrale in questo senso, che ti assolve a qualcosa, ma sicuramente è l'unica vera medicina l'arte. Insomma, questo qua purtroppo è chiaro che le strutture sia culturali, sia politiche, sia sociali, non se ne rendono conto perché sono ignoranti.